Da questa mattina la Guardia di Finanza di Torino ha eseguito otto ordinanze di custodia cautelare in carcere e sequestri di beni su tutto il territorio nazionale nei confronti di soggetti legati all'Andrangheta radicati nel territorio di Carmagnola e operanti a Torino. Tra le accuse, oltre all'associazione a delinquere di stampo mafioso e reati finanziari per 16 milioni di euro, c'è anche il reato di scambio elettorale politico mafioso. Tra gli accusati figura anche Roberto Rosso, assessore ai diritti civili della regione Piemonte, a lungo parlamentare di Forza Italia e ora in Fratelli d'Italia, per cui le accuse riguarderebbero le ultime elezioni regionali. La leader del partito, Giorgia Meloni, ha affermato che, nel caso fosse necessario, Fratelli d'Italia si costituirà come parte civile nell'eventuale processo a suo carico e che, fino a che la questione non sarà chiarita, Rosso è da considerarsi ufficialmente fuori dal partito. Intanto, il politico ha rassegnato le dimissioni da assessore della regione Piemonte. Nel 2019 la fattura energetica italiana, tradotto quello che il Paese spende per l'approvvigionamento di energia dall'estero, si attesterà a 39,6 miliardi di euro, cifra che segnerà una diminuzione di oltre 3 miliardi, il 7,4% in meno rispetto all'anno passato, una flessione dovuta alla discesa delle quotazioni delle fonti energetiche e al calo dei consumi, almeno stando alla stima dell'Unione Petrolifera all'interno del preconsuntivo, dal quale invece si apprende per il 2020 una forchetta di spesa tra i 40 e i 42 miliardi. Sul fronte opposto, invece, la cosiddetta fattura petrolifera monterà a 22,3 miliardi nel 2019 e a circa 23 nel prossimo anno. Per la prima volta dall'inizio del millennio è diminuito il numero di fumatori maschi, anche se ancora per i prossimi anni rimarrà molto sopra il miliardo. Questo quanto afferma il rapporto pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sottolinea come tuttora al mondo ci siano ogni anno 8 milioni di decessi causati dal tabacco, di cui un milione solo per esposizione al fumo passivo. Secondo il documento, il picco dei fumatori maschi è stato raggiunto nel 2018, quando il dato è arrivato a 1 miliardo e 93 milioni. Quest'anno il numero è sceso a 1 miliardo e 91 e l'OMS prevede che nel 2025 si arriverà a 1 miliardo e 87 milioni. Dal 2000 il numero totale dei fumatori è sceso di 60 milioni, ma esclusivamente grazie alla diminuzione di fumatrici donne. Per queste feste la priorità delle famiglie italiane sembra essere il cibo. L'analisi col diretti X il Natale nel piatto evidenzia come l'agroalimentare, inclusi i regali enogastronomici, pranzi e cenoni, sia la principale voce del budget delle famiglie italiane, con una spesa complessiva di 5 miliardi di euro, l'11% in più rispetto al 2018. La maggior parte di questa somma è dedicata al pranzo di Natale, che l'85% degli italiani consumerà in casa. Incide molto anche il settore dei regali, con il 30% dei cittadini che ha scelto di donare vini, spumanti o prodotti alimentari tipici.